L'amministrazione pubblica, lo sappiamo, è uno degli oggetti anche a volte dei governi, quindi delle campagne elettorali, come abbiamo sentito, anche l'attuale ministro, buongiorno, ne ha parlato, vediamo se a livello di governo riescono a fare qualche azione. Noi all'interno delle amministrazioni, soprattutto l'università, che è il motore dell'innovazione del Paese, abbiamo ormai come associazione nazionale direttore generale, di cui ho l'onore di essere presidente, e visto delle best practice sull'innovazione dei processi, quindi una semplificazione dei processi, viene attuata dopo un'analisi attenta di tutti i processi, dei carichi di lavoro del personale, e da lì si va un po' anche a riorganizzare l'amministrazione in maniera un po' più snella. Di solito l'amministrazione ci sono molte posizioni organizzative che andrebbero ridotte appunto per rendere l'azione più efficace dell'amministrazione e lì è la semplificazione che è oggetto sempre di desiderio del corpo docente, ma anche degli studenti. Lo studente non si deve trovare in difficoltà quando deve chiedere un servizio ed essere rimpallato tra vari uffici, deve avere una linea chiara su dove viene gestito il processo. Insomma, sono arrivato oggi credo sia al settimo giorno di servizio e quindi è solo una percezione iniziale, spero che magari mi sbaglio anche, però appunto essendo presidente dell'associazione ho l'occasione di girare un po' tutte le città universitarie, in quanto le nostre assemblee sono itineranti, le facciamo le varie università. Ho visto alcune città hanno rispetto a quello che ho visto e percepito qui e una maggiore attenzione appunto sempre sul discorso del servizio ai studenti. Io credo che la città deve essere, soprattutto una città abbastanza piccola come Sassari, ha la fortuna di avere un'università così prestigiosa e importante nel suo territorio, quindi ha maggiore disponibilità ad accogliere gli studenti, quindi nei confronti di servizio ai studenti e una città anche a servizio un po' dell'università, insomma, per un rapporto reciproco. Su questo forse ecco anche la comunicazione dell'università. Oggi abbiamo visto che deve essere rivolta anche al territorio, perché è importante il territorio sappia cosa fa l'università, insomma, un po' un discorso della comunicazione di quello che è la terza missione dell'università. che sono appunto a volte oltre la ricerca, insomma, l'innovazione, anche i servizi che possono essere interessanti per il territorio e per le istituzioni locali. L'internazionalizzazione oggi, visto la concorrenza che hanno tutte le università su questo settore, perché è chiaro che attrarre studenti è non solo un'idea di università internazionale, ma aumenta ovviamente i finanziamenti pubblici, che giustamente ormai sono assegnati anche con una quota premiale, non solo con una quota base e quindi avere studenti stranieri oggi è comunque difficile per la concorrenza che ci facciamo, un po' insomma, tra università, però oggi dall'esperienza avuto in quei sei anni a Perugia-Stanieri, dove ovviamente vengono studenti da tutto il mondo, e rispetto a molti anni fa gli studenti vanno un po' cercati con accordi proprio negli altri paesi, accordi specifici per attrarli, ma questi accordi appunto devono avere, e qui torna al problema di prima, dei servizi, cioè lo studente straniero che arriva deve sapere che ha un alloggio, un alloggio accogliente, sicuro, dove non ha problemi appunto di quando arriva andare a cercare dove deve insomma alloggiare, e servizi che sono appunto servizi della mobilità, a mobilità a livello di città, non so, ecco dall'aeroporto qui, io ancora non ho preso il treno, quindi non so, a livello ferroviario, credo, mi sembra che sia un po' carente proprio nella regione, però insomma la mobilità dello studente che arriva dall'estero bisogna accoglierlo già insomma quando arriva all'aeroporto, quindi è qui che fa la differenza appunto i servizi ai studenti, anche quelli stranieri e soprattutto loro.